buonasera ragazzi ecco devo far vedere questo piccolo lavoro che ho fatto alla caravan ho scelto questo orario perché sta quasi fatto notte dentro la caravan è buio ho messo queste luci di supporto notturne in quanto già la luce per fare il giorno ce l'ho una bella luce e ho voluto mettere queste luci aggiuntive per la sera dopo dopo cena oppure se vogliamo vedere un film eccetera vogliamo stare con una luce più bassa ho preferito mettere questi led che non sono forti in modo che c'è un si vede però non c'è una luce abbaglia abbagliante insomma al stesso lavoro ho fatto dentro l'armadio così ho la luce dentro l'armadio dentro lo sportello e adesso vi faccio vedere con la luce più forte l'effetto ecco quindi quando voglio una luce più grande accendo anche quella della dinette e poi se voglio una luce più soft abbiamo questa qui poi se voglio fare proprio giorno accendo anche quelle della cucina sempre a led e questo è l'effetto che da rispendo queste qui così ho varie soluzioni ecco qua spero che il video vi è piaciuto e che possa essere utile buon proseguimento a tutti